È una che non molla mai e probabilmente è quello, però i 1500 non sono proprio la sua specialità. Però speriamo che le ragazze italiane portino a casa ancora delle ottime medaglie. Grande aspettative sì, speriamo che, adesso è scaramantico dirlo, ma speriamo che si ripeta tutto quello che è successo la settimana scorsa. Sì, veramente, speriamo bene, bravissima, è un'emozione e condividere con tutti questa gioia è bellissimo. Questa volta le speranze dei tifosi di Arianna Funtana non si sono avverrate. Nessuna medaglia sabato per la nuova campionessa olimpica dei 500 metri di short track, che sulla distanza dei 1500 metri si è invece dovuta accontentare del settimo posto. Superate con scioltezza le fasi di qualifica per l'accesso alle finali, nell'ultima prova alla 27enne di Polaggia non è riuscita a sprigionare sul ghiaccio tutti i cavalli a sua disposizione. Gambe vuote e un po' di stanchezza non le hanno permesso di pattinare con la sua consueta grinta e agilità. Niente finale nemmeno per la compagna di squadra Martina Valcepina, qualificata sì per la finale B, nella quale ha centrato il secondo posto. Ottava piazza sulla medesima distanza dei 1500 metri per il veterano del ghiaccio Iuri Confortola, alla sua quarta olimpiade. Sabato è stato anche il giorno di un altro valterinese, Michael Rastelli. Il 26enne di Sondaro ha fatto alzare a mille le pulsazioni dei suoi tifosi con una strabiliante prima frazione della staffetta 4x10 km di Scinortico, chiusa al terzo posto. Purtroppo il resto del team non è riuscito a mantenere la posizione conquistata dal fondista, chiudendo la prova al settimo posto. I nostri atleti stanno comunque dimostrando di esserci sotto ogni aspetto. Ora ad essere affamato di medaglia, è il quartetto composto dalle tre valterinesi Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcipina e Cecilia Maffei. Per loro domani la finale dei 3000 metri a staffetta di Short Track. Quattro anni fa a Soci era stata medaglia di bronzo.